Ragazzi bentornati in un nuovo video di Gobbo Toscano, Mareba Maiala, ci siamo, ci siamo, stiamo combattendo questa battaglia e a suon di colpo su colpo vanno fuori, piano piano vanno fuori tutti, Sandulli, autodimissioni eh, autodimissioni Sandulli lo conosciamo bene, chissà come mai sono arrivate queste autodimissioni c'è qualcosa che mi dà a pensare, mi dà a pensare che tutti questi anti-juventini che stanno provando a fare del male ce lo stanno facendo in questo momento perché le battaglie le stanno vincendo ma quello che conta sarà vincere la guerra quindi questa intanto diciamo che ce la prendiamo noi come battaglia vinta perché quando un soggetto del genere si autodimette, vuol dire che erano state tirate fuori troppe cose che lo sporcavano, no? che lo vedevano sporco, come il caro Santoriello, quindi adesso è stata la volta di Sandulli il prossimo sarà il buon Santoriello, quindi vediamo poi dove andremo a finire fino alla fine Forza Juve, scrivetevi al Gobbo Toscano, se no non siete Gobbi, siete degli schifezzini, schifezzini, schifezzini Grazie